Ieri si sono spenti i riflettori nell'ultima fiera della marchigianità ad Acqualagna, da oggi parte il festival del tartufo marchigiano. Non solo più la pepita più preziosa, il bianco pregiato, ma tutti gli altri tartufi che in questo momento e fino a Natale sfileranno nelle cucine, nelle mense, nelle tavole della grande ristorazione. Quindi puntiamo sì ai tartufi di grande pregio, ma anche a quelli più democratici, più, magari meno noti, ma anche di grande classe. E cinque chef oggi di tutte e cinque le province marchigiane sfileranno, ognuno avrà la propria pepita, non tanto per essere il piatto migliore, ma per dare una declinazione dove tutti i tartufi si possono utilizzare, tutti hanno la loro identità, tutti hanno una traccia importante in cucina e gli chef ce lo manifesteranno. Partiamo con una bellissima tavola rotonda, abbiamo ospiti autorevoli, importanti, di grande prestigio per raccontare il turismo enogastronomico tra tartufo, territorio e narrazione. L'idea di poter avere un'offerta interessante anche da un punto di vista enogastronomico e per il territorio della regione Marche, quale migliore occasione se non quella proprio di pensare al tartufo, quindi in tutte le sue versioni, quindi tutte le sue specialità e tutto l'anno, quale elemento ed eccellenza enogastronomica proprio del territorio, affinché possa essere proprio tutto l'anno un festival del tartufo nel territorio.